carissimi pogonotomaniaci bentrovati bentornati sul canale di pogonotomania scusate la voce molto bassa ma oggi ho dovuto tenere un corso di aggiornamento degli autisti ho parlato per sei ore quindi praticamente le mie corde vocali sono molto provate allora argomento del video di questa sera videotecnico andremo a parlare un pochino di quella che è la possibilità di radersi quotidianamente con il rasoio di sicurezza video che mi è stato proposto quasi in via telepatica dall'amico cristiano forse perché sono stato musicista anch'io caro cristiano vedo che sei un organista io ho suonato per 13 anni il corno francese quindi ci si capisce fra musicisti a volte basta uno sguardo e cristiano mi ha chiesto perché non fai un video sulla quotidianità della rasatura ebbene è possibile è possibilissimo radersi quotidianamente con il rasoio di sicurezza c'è stato un periodo nella mia vita che se mi avessero chiesto cosa ne penso di una tempistica differente probabilmente avrei guardato l'interlocutore con uno sguardo stranito perché per me la rasatura era qualcosa di quotidiano diciamo che ho cominciato a variare un pochino dal momento in cui faccio i video quindi spesso mi sono trovato ultimamente ad affrontare in questi mesi delle rasature settimanali delle rasature dopo due tre quattro giorni però ribadisco c'è stato un periodo nella mia vita in cui la rasatura era la quotidianità fra l'altro con strumenti non del tutto delicati perché il rasoio che è stato per maggior tempo in mio possesso e col quale probabilmente ho affinato la tecnica e attuavo questa rasatura quotidiana era un fatip piccolo ma quello di vecchia generazione quello cattivello che mena armato con le uniche lamette che riuscivo a reperire con una certa facilità vale a dire le helios abbastanza famigerate sapone il comunissimo proraso verde e pennellino omega di maiale cosa comportava la rasatura quotidiana e che cosa comporta se vogliamo probabilmente per la pelle è senz'altro uno stress però c'è da dire una cosa che la pelle è qualcosa di vivo e che si adatta si adegua alle varie situazioni dato che all'inizio abbiamo parlato di musicisti posso prendere benissimo l'esempio del chitarrista colui quale inizia a suonare la chitarra le prime volte soprattutto se una chitarra acustica cioè quella con le corde di metallo piange per il dolore che ha nei polpastrelli io stesso ci sono passato ti vengono le vesciche ti esplodono le vesciche ti sanguino le dita poi sui polpastrelli si forma una sorta di di callo e col tempo col tempo la pressione delle corde sul manico della chitarra non va a generare più alcun dolore anzi a volte anche piacevole e così credo proprio succeda all'epidermide del viso magari le prime volte il fatto di andarsi a radere quotidianamente potrebbe portare degli scompensi delle irritazioni poi col passare del tempo ovviamente la pelle si abitua si robustisce perché dico magari perché io non so non so come si potrebbe trovare una persona che passi dal multilama al rasoio di sicurezza io ho sempre usato rasoio di sicurezza tranne ribadisco e magari se mi seguite qualcuno lo sa durante il periodo del militare dove usavo un gillette contour finito il militare io sono ritornato subito il rasoio di sicurezza non ho la più pallida idea di che cosa voglia dire radersi con un rasoio a cinque lame magari un giorno lo proverò e quindi vado così per intuizione la pelle si abitua si abitua alla rasatura senz'altro non è una cosa istantanea magari ci vogliono mesi magari ci vuole un anno per far sì che la pelle si abitui si abitui e nel caso in cui qualcuno dovesse provenire dal multilama al nuovo sistema di rasatura ma anche alla rasatura in sé però non è un così un obiettivo irraggiungibile i consigli che mi sento di dare quali sono va bene nel limite del possibile utilizzare sempre o per il periodo più longevo possibile lo stesso rasoio con la stessa lametta affinché a si affini bene la tecnica nell'utilizzo di quel particolare rasoio b sembra una stupidata ma e questo l'ho sperimentato ultimamente sulla mia pelle la pelle in sé si abitua a quel rasoio se io mi dovessi radere per un mese con il fatip piccolo questo qui open comb e poi dovessi passare a edwin jagger per esempio non è detto che la pelle non ne risenta cambia l'angolo di taglio cambia l'azione di taglio della lametta la pelle risente di questi cambiamenti di rasoio quindi soprattutto per coloro i quali iniziano proporre al viso una serie di rasoi diversi uno dietro l'altro è logico che poi porta all'irritazione cioè non sia ancora probabilmente quella malizia nel variare la tecnica a seconda del rasoio che si sta utilizzando quindi il mio consiglio è mantenere il più possibile lo stesso rasoio la stessa lama e magari abituare la pelle in in un modo un pochino metodico per arrivare poi all'obiettivo che quello della rasatura quotidiana cosa si intende per metodico magari la prima settimana mirado due volte poi la settimana seguente mirado due giorni consecutivi aspetto un paio di giorni poi ne faccio altri due giorni quindi qualcosa che arrivi gradualmente alla rasatura giornaliera caso contrario c'è veramente il rischio di infiammarsi di incappare in quello che sono delle fastidiose irritazioni ecco dicevo in questi giorni ho avuto modo di sperimentare questa questa affermazione questa questa teoria che sto dicendo perché mi sono reso conto nelle ultime due tre settimane che andando utilizzare giornalmente un rasoio per quattro o cinque volte consecutive la pelle un pochino ne risentiva cosa che in passato non mi è mai capitata quindi che cosa è successo probabilmente da quando inizio a fare i video le rasature si sono diradate nel tempo e quindi la pelle si è disabituata all'utilizzo quotidiano del rasoio adesso sto cercando piano piano di riprendere questa abitudine infatti la barba è corta sono due giorni che non la faccio però in tutti gli altri giorni quotidianamente mi sono ripromesso di andarmi a radere questo diciamo per quanto riguarda l'aspetto così puramente tecnico c'è anche una così una parte un pochino se mi è concesso filosofica no se vogliamo la rasatura giornaliera secondo me toglie toglie un pochino la magia del momento della rasatura la rasatura è qualcosa di particolare io in alcuni video che ho proposto faccio notare che è un momento di relax è un momento in cui ci si prende cura di noi stessi è un momento che vuole il proprio tempo e è un attimo particolare intimo che si è fatto tutti i giorni perde un pochino quella che è la sua magia no è un pochino come il natale per i bambini perché il natale ai bambini piace tanto intanto perché vabbè c'è l'innocenza del bambino ma poi perché viene una volta all'anno e lo si aspetta e quando quando si avvicina a quel momento il bambino ha la percezione quasi della magia del natale no stessa cosa vale a parer mio per quanto riguarda la rasatura se dovesse diventare una cosa giornaliera si perde un pochino il così il fascino del rito ma è proprio una sensazione mia io quando mi radevo quotidianamente vabbè quella era la rasatura mi alzavo proraso pennello via rasoio finito adesso quando faccio il video settimanale c'è qualcosa d'altro di fondo cioè finalmente mi rado mi mi preparo faccio il mio video diventa qualcosa quasi il raggiungimento di così di un obiettivo quindi per farla breve sì la rasatura quotidiana ribadisco si può fare si può attuare il metodo migliore è quello di a parer mio utilizzare il più possibile il medesimo rasoio con le medesime lamette fino ad affinare a la tecnica b ad abituare la pelle alla rasatura interrompendo interrompendo immediatamente nel caso in cui si verificassero delle irritazioni per poi riprendere l'irritazione è il primo sentore che c'è qualcosa di sbagliato quindi fermati questo qualcosa di sbagliato può essere la tecnica può essere lo stress per la pelle ma fermati poi riprenderai e la pelle si abitua si abitua man mano ribadisco si robustisce mannaggia se arrivavo a radermi io tutti i giorni con questo coso qui vuol dire che è una cosa che si può fare ma ci vuole tempo ci vuole tempo e il tempo non è quantificabile dipende dalla pelle di ognuno però ci si arriva ci si arriva e non so se è una cosa che ritornerei a fare volentieri perché quello che provavo prima quando mi radevo quotidianamente era proprio una sensazione di di normalità quasi pensandoci adesso col senno di poi capisco capisco quelli che utilizzano il il multilama anche se non l'ho mai provato e la schiuma spray per questione di brevità per questione di brevità mi metto la schiuma mi rado e buonanotte l'obiettivo è quello di togliermi la barba l'obiettivo in realtà per il cultore della pogonotomia dovrebbe essere il piacere il la distensione il gusto del gesto i profumi il carpire la tecnica e via dicendo quindi non so se ritornerei a una procedura di rasatura quotidiana così tanto per fare e però c'è anche il contro della medaglia ribadisco sto cercando di radermi con una degli intervalli più brevi quindi per diversi giorni la rasatura quotidiana perché sento che in caso contrario la pelle regredisce in quella che è la propria robustezza ok niente quindi è tutto video molto semplice discorsivo mi andava di fare quattro chiacchiere con voi io vi saluto e ci vediamo domani per la rasatura diciamo quotidiana ma buonanotte a tutti ciao andrea e dal canale di pogonotomania e dal canale di togliermi la